Per quanto riguarda anche i ritardi nella composizione della Giunta, lei ha sollecitato il Presidente a fare presto perché l'ente sembra essere paralizzato. L'ente è paralizzato ma non solo per i motivi per la Giunta perché finora l'amministrazione d'Orsi non ha fatto altro che impegnarsi solo ed esclusivamente ad aeroporto. Questa è una provincia che ha bisogno sicuramente di altre cose, ha bisogno che l'economia giri, ha bisogno sicuramente di tanto spazio, ha bisogno sicuramente di cose molto più importanti rispetto all'aeroporto che sicuramente non è una priorità per la provincia di Agrigento. Grazie a tutti.